Questa sera presentiamo il contenuto di un'altra scatola della Giochi MD Cascade X del 1979, ovviamente c'è la scatola e poi questa stella verticale che permette l'inserimento di alcuni dischi, questi, all'interno e permette di fare delle mosse che portano piano piano i dischi in basso, dall'altra parte l'avversario ha i dischi disposti in modo diverso, l'obiettivo è quello di far arrivare prima degli altri i propri 5 dischi, la dotazione è una base con 4 piedini in gomma, nella base va inserita la parte verticale che è questa, che permette di fare scivolare e scendere i dischi e 20 i dischi, gioco del 1979, divertentissimo, alla prossima iscrivetevi! Grazie! 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 Grazie!